Nella serata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato della squadra a volante del commissariato di Battipaglia hanno arrestato due cittadini di nazionalità rumena mentre cercavano di sfondare la porta di un'abitazione sita in località Spineta. Il proprietario della casa ha allertato la polizia dopo aver ricevuto sulla propria utenza cellulare le immagini relative ad un tentativo di sfondamento di una delle porte per accedere all'interno dell'abitazione da parte dei due soggetti con l'utilizzo di un palo di legno di circa 3 metri di lunghezza. Giunti sul posto, gli agenti hanno fermato i due in un'area antistante il fabbricato dove avevano provato a nascondersi. Entrambi sono stati arrestati e condotti presso la locale casa circondariale di Salerno Forni in attesa della convalida.